Maschera sul viso a ricordare un personaggio politico d'oltreoceano oppure mascherina anti-covid, cappello ed occhiali. Entravano così in banca senza destare alcun sospetto, sotto i vestiti però portavano coltelli e pistole e dopo aver immobilizzato con delle fascette di plastica e dipendenti ai clienti che si trovavano in quel momento all'interno della banca, passavano a prelevare, oltre ai contanti, anche il contenuto delle cassette di sicurezza, gioielli e pietre preziose, oltre a monete antiche, il tutto per un valore di 500 mila euro. Ora sono finiti in carcere perché ritenuti responsabili di una rapina alla Unicredit di Poirino a Torino. La Procura della Repubblica di Astia ha ritenuto che vi siano gravi indizi di colpevolezza nei confronti di sei indagati, tutti italiani e con precedenti penali, in merito ad una rapina avvenuta lo scorso 18 febbraio alla Unicredit di Poirino. Rapinatori AG che non avevano perso il vizio di alleggerire gli altri, tutti gli indagati hanno fatti più di 60 anni, tra di loro anche un ottantenne. Le operazioni sono state condotte dai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Torino col supporto dei colleghi della stazione di Poirino. Il bottino tra contanti, gioielli e pietre preziose è stato in parte recuperato e verrà restituito ai proprietari. Nell'operazione sono state scoperte anche numerose armi.